e il 2023 ce lo siamo tolto dalle spalle diciamo così per non essere per non usare un'altra parola 2023 veramente strano come anno veramente particolare e a chiacchierarlo qui con me c'è Gigi ciao 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 Marco e ciao a tutti i colori quali hanno il coraggio di vedere questa diretta di vedere questo video dopo i bagordi del nuovo anno però ci sta perché si ricomincia si tira una linea per me la fine dell'anno è sempre un momento importante perché uno tiri una linea sulle tue performance due tiri una linea per vedere come è andato l'anno soprattutto per prepararti poi al meglio nel 2024 cercare di partire col piede giusto ed è quello un po' che faremo qua con questo video cercando di dare un po' quella che è la nostra visione agli altri poi gli altri ce la lasceranno nei nei commenti Gigi tanto non c'è bisogno di stare a presentare di fare tutta la storiella ormai sei diciamo non soganato ma esatto ormai sei stupiato rovinato quindi non c'è niente da fare senti 2023 cioè finiamo il 2022 iniziamo il 2023 con la recessione più chiacchierata della storia ti ricordi articolini articolini giornali recessione 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 e a dirla tutti i miei modelli statistici con i dati di ottobre e novembre prevedevano 2022 prevedevano una recessione con alte probabilità nel 2023 soprattutto tra q2 e q3 e invece poi il q1 è stato un q1 diverso tutto sommato ti ricordi l'inizio del 2023 beh sì 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 diciamo che potremmo potremmo intitolare 2023 aspettando godò diciamo così perché in effetti tutti quanti penso che chiunque insomma mastichi un po di finanza economia avesse la quasi certezza matematica che nel 2023 sarebbe arrivata la recessione quindi ci sarebbero stati anche dei problemi probabilmente che sarebbero riflessi sui sui mercati no e quindi proprio in virtù di questo devo dire che il 2023 è stato l'anno probabilmente più più sorprendente ecco degli ultimi perché una cosa praticamente annunciata e data per scontata non è mai arrivata stavo guardando il grafico dell'S&P 500 no abbiamo in realtà iniziato l'anno con questo bel rialzo perché era stato invece guarda avevamo venivamo fuori da una brutta discesa il 2022 insomma è stato l'anno del cambio delle politiche monetarie lotta all'inflazione feroce e quindi avevamo finito ad ottobre in maniera negativa poi c'era stato questo rialzo che fino a metà dicembre poi le vacanze di dicembre non erano andate benissimo e poi il mercato a 2023 qui eravamo a gennaio insomma è ripartito fino a febbraio è andato è andato bene no molto bene sì difatti se non se non ricordo male ora insomma vedendo così poi è un attimino rallentato in marzo se non sbaglio marzo aprile un pochino aveva un po' lateralizzato insomma comunque vedendo poi come come si è espresso dopo viene da pensare che abbia fatto accumulo ecco perché poi non si capisce mai bene quando è accumulazione distribuzione perché alla fine se va giù dici che era distribuzione tutti sono bravi e dicono no no era accumulazione chiaramente un accumulo esatto no però il accadde proprio a fine primo trimestre accadde ci fu un po' il l'inciampo delle banche regionali americane ti ricordi poi con credit suisse e il deutsch bank pure ha scricchiolato qui c'è stata una grande attenzione e paura infatti i mercati lì sono scesi e l'S&P si è rimangiato tutto il rialzo d'inizio anno praticamente ha fatto un meno meno 8 per cento tra febbraio e marzo lì c'è stata una grande paura effettivamente no quella di le corse agli sportelli c'è stato il fallimento di silicon valley bank poi qui in europa sì diciamo che in quel caso lì a differenza magari di altri casi precedenti che ricordiamo secondo me c'è stata una gestione ottimale e quasi che lascia pensare che i mercati le banche centrali così abbiano fatto veramente esperienza da ciò che era accaduto nel passato perché hanno gestito con moltissima maturità e serenità la cosa no senza che trasparisse più sofferenza e più ansia del dovuto no sui mercati e sugli investitori e tampegno poi insomma si è ripartiti veramente di con una buona lena ecco sì vedi qua eravamo guarda se vedi il grafico qui eravamo intorno al 12 13 17 marzo quando è esplosa la cosa e ma qui hai detto bene te sono state questa volta tempestive le banche centrali nel nell'intervento nel metterci subito un un tappo e ti dirò di più se ti ricordi comunque a marzo c'era tutto il discorso adesso figurati se la banca centrale americana avrà il coraggio di rialzare i tassi con quello che è successo invece alzò di 25 punti base quindi un po meno rispetto a quello che aveva fatto in passato ma comunque alzò ma fu tempestiva nel diciamo iniettare liquidità e aiutare il mercato a riprendersi il sistema basta una corsa agli sportelli che è finita è finita no no di fatti c'era secondo me se ti ricordi perché poi stando noi secondo me tutti i giorni sul mercato alcune volte si fa confusione con le tempistiche perché chiaramente ha in testa un milione di emozioni un milione di momenti un milione di cose però c'era proprio la paura anche dell'effetto domino no che si ripercuotesse sull'Europa difatti poi è venuta fuori la banca svizzera però anche lì è stata gestita veramente molto molto bene ecco a differenza delle altre volte l'Europa l'Europa ha avuto la stessa questa è il DAX ha avuto la stessa reazione è durato forse un paio di giorni in più perché poi anche perché è accaduto dopo il Deutsche Bank cioè prima Credit Suisse con UBS e poi il Deutsche Bank quindi c'è un ritardo di qualche giorno ma poi anche in Europa è tutto quanto è tutto quanto ripartito volevo vedere che aveva fatto il gold in quel periodo perché è sceso il gold probabilmente se ricordo bene e infatti sì il gold è andato è andato giù e ha ritoccato la media 200 periodi qui erano a livelli veramente bassi 1800 1800 dollari 1810 col senno di poi qui era da fare incetta sì però sai tutto è relativo perché alla fine per dire il gold che è uno magari degli asset che che seguo di più alla fine mi mi ricordo che a settembre a novembre tocco i minimi del periodo cioè sui 1.600, 1.600 e 10, 1.600 e 20 se non sbaglio e poi dopo è ripartito veramente con con grande forza e quando in quel momento di debolezza poi trova un pavimento trova il supporto sui sui 1.800 più o meno cioè storicamente andando a vedere è sempre un valore alto cioè noi magari giudichiamo diciamo eh però inflessione sta soffrendo l'oro ma se andiamo a vedere i valori storici dell'oro è 1.800 cioè è un valore importante ecco non è regalato capito e quindi tu è qua che che ti dico che tutto è relativo no quando poi valutiamo le cose perché magari gente come ho detto prima gente come noi che siamo magari quasi sempre sul mercato vedi da 2.000 passare a 1.800 dice eh madonna però l'oro si sta depreciando così ma 1.800 storicamente insomma è un valore molto alto sì guarda qui guarda qui dove era guardami questo è 2016-2017 eravamo tra i 1.130 di minimo e i 1.400 di massimo abbiamo dovuto aspettare maggio del 2019 per vedere rompere questo canale diciamo i 1.400 più o meno i 1.400 e poi ovviamente rischizzato nel 2020 quando toccò il massimo a 200 no che che abbiamo rivisto poco tempo fa mo ci arriviamo però è assoluto questo effetto che dici tu che sicuramente avrà un nome come bias umano no come eh sai limite che abbiamo noi esseri umani è è assolutamente vero e ci sembra 1.800 ma 1.800 il dollaro è il il gold è bassissimo e invece se lo vai a vedere scuricamente eh tutto cambia prospettiva eh sì è vero ed è cambia e chiudiamo con il dollaro vedere che cosa è successo in quel periodo con il dollaro aspetta che rimetto il giornaliero e rimetto anche il grafico eh perché il gold era aveva era partito nel 2023 bello a rialzo poi fino a marzo eh qui avevamo toccato i minimi a cento a cento dollari quasi eh cento punti scusi sul DXY sì poi cento sei abbiamo sfiorato ma poi è ripartito l'azionario a marzo vedi qui eravamo proprio l'otto marzo eh ripartito l'azionario e se ne il 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 dollaro è tornato è tornato dove era dove era stato dove stava prima inizio anno beh certo 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 diciamo che poi la la correlazione insomma anche inversa che c'è fra fra dollaro e oro insomma fa sì che eh quasi sempre quando compariamo i grafici vediamo proprio dei dei movimenti opposti no? Sì. E tra le tranne c'è stato solo un periodo eh nel quale eh ma neanche qualche mese fa nel quale si apprezzava il dollaro e si apprezzava anche l'oro. C'è stata correlazione diretta sì è vero. E più in quel momento se non sbaglio anche il treasury o o i rendimenti eh facevano un movimento che che era completamente fuori dalla dalla realtà ecco e dalla logica di e quindi in quei momenti lì mi sono preso un po' paura perché eh vedevo che il mercato eh dava e e andava dove voleva ecco senza senza nessuna logica. Quelli sono momenti nei quali un pochino ti eh ti fermi almeno io mi fermo perché voglio capire dove vuole andare a parare. Sì perché diciamo che ti cadono un po' i i riferimenti no? Certo. Perché proprio per l'intermarket analysis che è quella disciplina che studia le correlazioni tra i vari asset c'è un motivo per cui un asset va su e l'altro va in giù c'è una decorrelazione o c'è una correlazione inversa quando queste vengono a mancare c'è qualcosa che sul mercato magari non riusciamo noi a vedere ad interpretare star fermi e stare a guardare per qualche giorno può evitare di fare grandi grandi sbagli. Sì 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 ti fa guadagnare. Esatto star fermi ti fa guadagnare guarda nelle nelle mie performance quest'anno Gigi io mi devo un po' tirare le orecchie perché se ehm eh abbiamo fatto tante cose quest'anno e alcune sono state anche cose che abbiamo fatti insieme ho lavorato veramente tanto e quando lavori tanto e sei e abbassi un po' l'asticella dell'attenzione è un attimo gestire male un trade uno e più trade e eh rischiare poi magari di compromettere o rovinare una un'ottima performance e farla diventare solo una buona performance e a me quest'anno è successo è successo proprio quest'estate soprattutto. Ma sai Marco secondo me gente come noi che opera spesso va va incontro anche spesso no a delle situazioni eh simili perché inevitabilmente sia che le cose vadano molto bene o le cose vadano male è chiaro che in quei momenti tu perli il balance perli l'equilibrio e quando perli il tuo equilibrio eh interiore eh mentale tutto sei portato a commettere l'errore è è veramente fisiologico è è matematico di fatti proprio in quei momenti uno dovrebbe avere la forza di dominarsi e dire e prendere e lanciare il computer lanciare l'iPad eh dalla finestra perché sai che dopo una settimana capisci che ci hai guadagnato non so quanto a lanciare l'iPad fuori. Non solo in termini di equity line ma anche in termini di salute perché poi quando arranchi e sai che stai facendo le cose con fatica oltre a non riuscirti bene ti senti ancora più affaticato no perché non riesci a fare quello che devi o che sai fare e lo fai male e ci aggiungi sopra arrabbiatura. Sì e poi è incredibile guarda l'aspetto psicologico Marco perché ti accorgi come come siamo vulnerabili no perché poi eh realmente ci sono dei momenti che nel quale incappi magari in un errore uno in un trade sbagliato così e quando magari il trade diventano uno due o anche tre magari delle volte che sbagli proprio eh hai una ti ti viene assalito da una insicurezza esistenziale proprio no che che dici madonna ho bisogno di di ritrovare un po' di autostima ho bisogno di ritrovare un po' di certezze incredibile. È vero che ti serve quel trade che ti dà un po' che si accende. Ti dai lo schiaffo sulla guancia e dici no no ci siamo ci siamo. A me quello lo sai che me lo dà me lo danno i numeri no? Quando sto in queste fasi un po' in cui l'emozione prende il sopravvento eh mi rilancio tutti i miei eh i miei modelli mi riguardo. Che cos'è quello alla fine Marco? È la ricerca di nuovo di una razionalità cioè alla fine il numero ti ridà razionalità secondo me ed è fondamentale però veramente trovare la lucidità per fermare tutte le bocce e riandare là è un passaggio non da poco cioè è il passaggio che secondo me eh ti fa diventare profittevole in maniera importante oppure ti ti fa sempre essere in sofferenza. Ma secondo me questa è proprio è la differenza tra che che ti dà l'esperienza in questo settore no? L'esperienza ti riesce a a far tornare un po' con i piedi per terra a rimetterti in carreggiata magari quando ne hai poca è facile che presa quella tangente tornare indietro non riesci più a tornare indietro no? Magari quando sono due o tre anni che stai sui mercati ti senti completamente investito da quello che è successo. Questa secondo me è la grande differenza tra chi è esperto e quindi c'ha tanti errori alle spalle e chi meno esperto e chi errori li deve necessariamente fare. Infatti in questi momenti penso veramente a tanta gente o tanti ragazzi che magari eh si sono approcciati alla finanza nel 2021 no? Che è stato l'anno nel quale come dice spesso te anche il mio gatto ha fatto 80 per cento no? Di gay. Che è la verità? E sai quando secondo me un un novizio eh approccia la finanza e pensa che sia veramente così facile poter portare a casa di dei guadagni io non immagino cosa possa essere successo nel 2022 eh ma anche nel 2023 sotto certi aspetti no? Quante veramente bruciature. Sì per l'aspetto che c'erano così secondo me aver la forza di di rivedere diciamo in corsa una lettura che sembrava scontata di di tutto non è facile perché poi come diciamo spesso Marco la la vera difficoltà e la vera bravura sta proprio nel dominarsi e nel dover rivedere anche delle posizioni che che dentro i tetti dispiace no? Dover rivedere perché tu avevi la certezza e la convinzione che sarebbe andato così invece poi no devi capire che purtroppo il mercato la fa da padrone e quindi alcune volte devi avere l'umiltà di fare un passo indietro e metterti a fare il trending follower via. Magari i modelli matematici te lo dicono no? Ti dicono no guarda che con i dati che avevamo prima quello ti dicevo ma adesso i dati sono cambiati però sei tu che fai fatica a cambiare non i dati. I dati cambiano sei tu che poi a volte fai fatica e fai ritardo e fare ritardo vuol dire commettere degli errori. Ma sì ma ti sarà successo anche a te ma a me succede spesso che senti proprio dentro di te queste due forze contrastanti che che combattono no? Tanti che una possa sopraffare quell'altra e dentro di te tu sei lì che sembri quasi inerte cioè sembra che quello che accade non sia dentro di te cioè sembra che tu sei spettatore di due forze dentro di te che che una deve sopraffare l'altra e sei lì che dice speriamo che vinca quella lucida e quella razionale. Guarda infatti lo sai delle nostre chiacchierate delle nostre i nostri messaggi mi mi piace molto il fatto perché questo è un mondo solitario no? Sei tu contro il grafico contro i numeri contro i dati quindi avere qualcuno con cui confrontarsi e a volte anche scontrarsi a me lo sai quando mi fa paura quando noi invece di scontrarci io e te ci diamo ragione quando c'ho più paura è un attimo che è un attimo che esageriamo poi invece ti scontriti l'altro ti fa vedere un altro punto di vista dicendo cavolo è vero questa cosa non l'avevo considerata oppure questa cosa su questa cosa sono troppo ottimista oppure sono troppo pessimista io tendo ad essere un po' troppo conservatore e a proposito di irrazionalità il Q2 inizia con enorme razionalità perché ti ricordi che secondo trimestre del 2023 abbiamo avuto i mercati sono partiti con il cavallo dell'intelligenza artificiale ti ricordi Nvidia il boom di chat GPT di Microsoft e guarda mi ricordo anche insomma una sera che aspettavamo i risultati di Nvidia aspettavamo aspettavamo e il nostro posizionamento non era poi come il mercato non era come poi si è rivelato guarda la voglio andare a rivedere perché quella è stata quella è stata epica eh quella è stata veramente nvda guardare che cosa ha fatto nel secondo trimestre questo è inizio 2023 ma questa è stata l'accelerazione di cui parla Gigi eh quando eccolo qui eravamo questo forse era ancora era maggio possibile eh sì 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 era Q2 era questo questo gap impressione cioè già era salita in maniera perché poi quando ti sale eh ma io mi ricordo che nell'after hour fece più trenta più venticinque trenta per cento una una cosa simile se non sbaglio eh perché poi ha chiuso riscendendo eh quindi ha coperto un po' il grande gap ha chiuso a più ventiquattro e trentasette per cento me lo ricordo me lo ricordo e non si è tra l'altro non si è praticamente più fermata sì ha avuto questo momento di ritracciamento ma questo è di nuovo una grande lezione che ti fa ricordare che i mercati non fanno eh quello che a volte la razionalità e dice i dati ti dicono a volte anche il buon senso perché il nostro era se vogliamo un pochino di logica e buon senso è applicato magari a un investimento nel quale probabilmente siamo stati un pochino superficiali in quel momento però in linea di massima il sentore era quello lì ecco quello che noi abbiamo deciso di di cavalcare ecco per cui e quindi lì ha avuto l'ennegi ma conferma che 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 purtroppo il mercato fa quello che vuole ha sempre quello che vuole e infatti questo è quello che ha fatto poi il mercato questo è marzo il tredici marzo e praticamente qui siamo andiamo a a fine giugno quindi eccolo qua questo è giugno questa è la grandissima cavalcata del recupero del del mercato che da l'S&P era 3.000 intorno ai 3.800 3.900 e siamo passati a più di 4.300 e qui si parlava appunto del l'intelligenza artificiale come motore che aveva riportato entusiasmo ma la verità è che è proprio quello sono le emozioni poi della degli investitori che fanno muovere le cose lì ce n'è stata tanta anche perché qui c'è stata forse la un po' la resa dei conti sul fatto di la recessione non non c'è non ci sarà molto probabilmente sicuramente non c'è stata e quindi tutta la paura di quello che avevamo scontato prima adesso la possiamo esprimere in un riequilibrio un riassetto di quello che avevamo scontato perché se si sconta troppa paura e poi quella paura è infondata no no certo ma anche perché diciamo che nel nel frattempo secondo me Marco ci avevano dato un po' di fiducia anche il primo trimestre e secondo trimestre del PID degli Stati Uniti che nessuno pensava fosse diciamo così in crescita e così positivo e ancora doveva arrivare il terzo perché poi il terzo trimestre è stato ancora un qualcosa di più grande no e questo diciamo ha creato ha fatto nascere il nuovo punto interrogativo quello che dicevi poc'anzia cioè ma la recessione arriverà perché qualcuno addirittura ha pensato pensa che possa non arrivare ecco e a questo punto insomma anche qua ci sono tante correnti di pensiero e credo che che ognuno debba seguire quello che 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 il proprio la propria convinzione ecco che però sia basata insomma su dei su dei dati oggettivi ecco non che sia inventata ecco ora stavo riguardando i dati eh di questo periodo del secondo trimestre avevamo l'inflazione che era scesa ehm dal cinque per cento al tre per cento quindi in forte eh disinflazione quindi vuol dire che la Fed stava ottenendo i risultati che voleva il prodotto interno lordo al eh due virgola due per cento quindi che è è aumentato rispetto al trimestre al trimestre precedente disoccupazione come al solito bassissima al tre e quattro aveva toccato il minimo di ricordi degli anni sì 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 ma ricordo ma ricordo cioè incredibile i manifatturieri erano rimbalzati al cinquanta e due in America i servizi stavano al cinquantadue insomma era veramente il il goldilocks come dicono gli americani cioè espansione economica rimbalzo economica rimbalzo cittico impressionante e poi con con un'inflazione che che stava anche calando cioè quindi è stato veramente sotto certi aspetti non riesco a spiegarmi non devo essere sincero eh però prendo quello che viene cioè alcune volte penso che le cose sovrastanti sopra di noi siano talmente più più grandi che non bisogna andare a spaccare l'atomo bisogna anche prendere il dato lì per lì e farsene una ragione senza farsi troppe domande perché altrimenti non non è si entri si entra in un dedalo senza senza risposta e magari che ti crea solo dei dubbi ulteriori no e quindi il dubbio ogni tanto è lecito ed è giusto perché ti ti stimola ecco a fare delle riflessioni ulteriori però troppi dubbi secondo me ti paralizzano sì perseverare poi è un diventa un errore no e qui infatti è stato anche per me il trimestre in cui sai tutti quei pensieri ma cavolo non è possibile che abbiamo tolto dal tavolo la recessione cavolo non è possibile che non che i mercati facciano quello che stanno cavolo non è possibile vedi dati da poi a certo punto devi fermarti guardare i dati guardare a come stanno cambiando a quello che ti stanno dicendo e abbandonare quello che tu credi la tua opinione e fidarti invece di quello che sta succedendo e questo sembra facile no dice certo ma che ci voleva invece è difficile è difficile anche per chi ci sta da sempre per chi è molto esperto non è facile perché vuol dire annullare io penso una cosa però lo sai che io penso che molti chiaramente di voi che siete oltre che degli appassionati siete dei maestri chiaramente io penso che il condizionamento che voi avete avuto e poi chiaramente l'avete trasferito a tanti compreso il sottoscritto che che vi seguo giornalmente e anche il discorso di un precedente storico dei precedenti storici della correlazione dieci anni e due anni no del versione della curva ecco secondo me quello ha condizionato tanti di voi e però secondo me vi ha condizionato con con delle ragioni e con delle motivazioni molto molto forti ecco tant'è che io devo dire su questo tipo di di ragionamento faccio ancora affidamento ecco devo essere sincero si guarda qui guarda qui dove ha sprofondata poi cioè cominciato a scendere a scendere aveva fatto un accenno sotto lo zero perché il problema quello che diceva gigi è quando si inverte la curva ovvero quando il la differenziale tra i rendimenti a dieci anni con i due anni diventa negativo era diventato negativo ad aprile è ritornato indietro per poi sprofondare e siamo ancora cioè ci siamo ancora sì sì siamo guarda in questo momento a meno 0 45 e abbiamo toccato quasi meno uno è marco si puoi dire che praticamente i rendimenti a due anni pagano di più e valgono di più dei rendimenti a dieci anni che chiaramente è una distorsione via a poca logica questo lo diciamo magari per chi mastica meno sì hai fatto bene e perché tendenzialmente tu vuoi che se blocchi i tuoi l'obbligazionario poi alla fine liquidità e cash semplicemente con una scadenza temporale per due anni il tuo capitale vuoi magari meno rendimenti se blocchi rispetto a se bloccare il capitale per dieci anni se lo blocchi per dieci anni voglio può succedere molto possono succedere molte più cose il fatto che si sia invertita cioè che il due anni paghi di più è una distorsione come detto te ed è un sinonimo di stress finanziario e tutte le volte che questo è accaduto poi sono cambiati i tempi no cioè a volte sono passati tre mesi a volte è passato un anno la media sono diciotto mesi mediamente passano fino a dicio io mi ricordo che era quasi due anni un anno e mezzo 12 più 6 fa 18 un anno e mezzo spaccato ma di media e qui un altro sai questa è un'altra fregatura dove molti cascano cioè una media è una è esattamente quello che dice la parola vuol dire che ci sono la media ci sono state volte in cui era 34 34 l'altra volta due mesi esatto quindi bisogna sempre non dimenticarsi di che cosa vuol dire media non è che la media quando accadrà no è semplicemente una ponderazione delle volte in cui è accaduta quella cosa e si è ragione a tirar fuori la curva dei rendimenti perché l'obbligazionario insomma nel 2023 è stato anche un altro grande perdente che è invece il cavallo uno dei cavalli di battaglia che molti dicono darà soddisfazioni importanti ha cominciato negli ultimi nelle ultime settimane ha cominciato a dare un po di soddisfazioni ma potrebbe continuare nel nel tutto il 2024 pensi così tu arriviamoci 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 perché q3 q3 l'estate 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 è stato il il mantra del higher for longer te lo ricordi più in alto più a lungo e perché perché le banche centrali cominciavano un po anche a spaventarsi di tutto questo entusiasmo e avevano paura qual è l'incubo delle banche centrali ancora adesso che l'inflazione di i rischi non vogliono perché è successo negli anni un volker bravo che ha dovuto combattere per due volte a creare due recessioni di cui la seconda ha fatto sprofondare agli stati uniti non vogliono ripeterlo quell'errore e quindi che continuavano a ripeterci paolo la garda signori questi tassi qui ci rimangono per molto tempo perché il mercato stava scontando dei tagli e quindi hanno dovuto un po soffocare questa questa idea e che cosa è successo sui mercati d'estate eccolo qui rimettiamo il 2023 faccio un po di zoom questa è questo è giugno qui abbiamo avuto il picco a luglio fine luglio e poi abbiamo avuto queste tre belle gambe tra l'altro guarda che belle armonicissime come movimenti guarda questa speculare a questa speculare a questa quando dici i movimenti armonici no ovviamente con dei ritracciamenti in mezzo però qui l'S&P da 31 luglio è arrivato qui sotto in 400 circa 4132 a ottobre diciamo vabbè fine 2000 fine Q3 quindi Q3 c'è stato un riallineamento degli eccessi che avevamo avuto a partire da Q2 sì diciamo che è fisiologico e anche salutare se vogliamo dirla perché poi anche secondo me quando stai sul mercato e continui a vedere come in questo periodo per esempio che dal primo novembre più o meno fino ad oggi il mercato non fa una candela rossa è chiaro che un attimino di di apprezzione ti viene ecco perché perché come in tutti i movimenti non si può andare solo su come non si può andare solo giù no e probabilmente sembra che in questo momento il mercato sia proprio ebro di gioia no voglia proprio dar fuoco a a tutte le polveri e probabilmente è anche un po' troppo ottimista no per quel che riguarda il taglio tassi che ci sarà nel 2024 perché probabilmente ci sarà però un conto che ce ne siano tre e un conto che ce ne siano sei o sette ecco cambia cambia parecchio ecco sì guarda sei sei arrivato a Q4 faccio solo vedere quello che è successo in Q3 dal punto di vista anche di altri asset interessanti uno tra tutti il gold ti ricordi il gold era tornato in maniera feroce con queste due gambe ribassiste a ritoccare appunto i 1830 sì guarda credo abbia come minimo 1823 sì io sto sul future e quindi probabilmente se guardate GLD o un altro strumento potrebbe assolutamente aver toccato i 1810 ma qui con l'azionario eccitatissimo il gold che e soprattutto con i rendimenti che pagavano quello che pagavano sull'obbligazionario qui il gold ha poco motivo di essere interessante per gli investitori no non stacca nessun nessun interesse nessuna cedola certo non c'è paura di nessun tipo e quindi non funge nemmeno da bene da bene rifugio l'inflazione sta sta scendendo e il gold diventa meno interessante però il gold poi ha fatto però lì in quel periodo era un periodo che si parlava molto se ti ricordi del gold e te e io avevo nella mia idea avevo usato se non sbaglio condividere proprio avevamo condiviso il fatto che secondo me saremmo arrivati a dei massimi storici del gold proprio in virtù del fatto che seppur si stesse un pochino depreciando era rimasto ugualmente a 1810 1820 ho detto che storicamente come vi ho detto prima è un prezzo molto alto molto valido eppure tutto remava contro il gold cioè proprio in una situazione la quale il gold avrebbe dovuto sprofondare manteneva i 1810 1820 e questo mi ha acceso la lampadina che mi ha fatto pensare secondo me il gold quest'anno farà dei massimi storici ecco guarda era era qui era in questo periodo qui che ci confrontammo io e te perché ci eravamo incontrati a milano ci eravamo visti a milano e proprio qui tu mi avevi detto questa forza del gold e questo perché il gold come detto stava andando contro tut tutta la teoria che si studia nei libri era solo contro un paese eppure continuava ugualmente a farsi rispettare ecco esatto questo mi aveva acceso la lampadina ecco mi aveva fatto scattare un alert perché il gold quello a cui ci riferiamo io e Gigi è che il gold ha una correlazione inversa con i tassi reali quindi tassi reali che salgono ed era quello il contesto teoricamente dovrebbero far scendere il gold perché anche il dollaro in quel momento si stava apprezzando di qualche figura però insomma no no altro che guarda che guarda che cosa ci ha fatto questo è settembre ottobre e poi poi si è stabilizzato ma eravamo arrivati a 107 guarda che che cavalcata che aveva fatto il 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 e questo era il momento anche delle di quelle correlazioni di cui stavamo parlando prima Gigi che andava un po tutto nella stessa direzione era saltata l'intermarket analysis no non sapevi non sapevi come se ti dovevi proteggere non sapevi non sapevi come proteggerti ma se dovevi entrare per cavalcare qualcosa saliva tutto e ti chiedevi ma come fa a salire sì 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 è vero è stato il momento che proprio saliva tutto bitcoin oro rendimento azionario azionario dollaro e dicevi io non c'è sto capito niente cerchiamo di edulterare il linguaggio esatto e il nostro euro dollaro in quel periodo ovviamente con il dollaro che non non guardava mai indietro è arrivato qui eravamo qui al 3 ottobre e di nuovo me lo ricordo perché avevamo discusso anche di euro dollaro quando ci eravamo visti stavamo qui veramente in basso è stavamo si eravamo qui intorno ai 1 0 5 i 1 0 5 30 e poi da qui infatti ci fu il il grande il grande recupero perché è iniziato poi il l'ultimo trimestre in cui i mercati si sentivano veramente con le spalle protette si sentivano che ormai il peggio era passato eravamo arrivati al ciclo al ciclo di inasprimento al picco del ciclo di inasprimento quindi da lì in poi pausa e tagli questo è stato un po' la forza infine q3 e poi per tutto il q4 che ci ha accompagnato no il peggio è passato ora da qui in poi possiamo soft landing riuscito quindi applausi alla banca centrale alle banche centrali no no secondo me non ce n'è ancora neanche il landing c'è ad oggi sono curioso di vedere se ci sarà almeno il landing fatemi vedere il landing perché è un anno e mezzo che aspettiamo sì sì infatti guarda feci una diretta in cui dissi soft landing o addirittura no landing perché non c'è proprio bisogno di un di un rallentamento in realtà è andata così bene l'economia del q3 q4 o q3 ha chiuso il prodotto interno lordo di q3 in america adesso l'hanno chiuso e ritoccato di poco quindi è sceso un pochino 4,9 per cento è un numero impressionante quindi che succede che quando va così tanto bene un dato poi che deceleri è quasi fisiologico perché adesso il q4 guarda ho rilanciato stamattina perché in diretto ho fatto vedere ho fatto vedere il le proiezioni di q4 e q1 del dell'america e dell'europa anche di prodotto interno lordo guarda te le metto qui così te le faccio vedere guarda è andato così bene il q3 questo qua guarda che bel bell'istogramma che ha staccato tutto guardate q4 2022 q1 2023 q2 2023 q3 guardate che progressione bellissima però adesso nonostante il q4 è buono perché diciamo che comunque adesso la previsione al 2 7 per cento è comunque un rallentamento rispetto al precedente no ed un altro rallentamento rispetto a q1 almeno alle proiezioni che ho io e questa qui si chiama sui libri tecnicamente sì tecnica si chiama recessione tecnica però anche qua secondo me non bisogna lasciarsi suggestionare dalla terminologia e dalle cose giuste insomma che si leggono sui libri ecco io penso che la percezione di come stanno andando le cose come sta andando l'economia di come sta andando l'economia anche della strada chiaramente quella che anche il nostro amico davide spesso menziona secondo me ti dà il sentore di cosa di come si evolverà ecco una certa situazione quello sì sì e arriviamo quindi ai giorni nostri arriviamo adesso a all'inizio del del 2024 tra l'altro lasciami dire hai parlato di davide e quindi questo è il momento di dire che questa chiacchierata troverà un prosieguo e un modo di di continuare per la nostra mega trasmissione che partirà il 15 gennaio sportfolio si chiama con i nostri due amiconi con i nostri due amiconi Giacomo Ciccio Valenti e Davide Biocchi quindi sarà un tutti contro tutti è proprio un tutti contro tutti su ne rimarrà solo uno un nessuno ne rimarrà solo uno calcio e finanza che uno dice calcio e finanza ma che ci azzecca e cucina è vero hai ragione Giacomo sarà il rappresentante della cucina italiana del made in Italy ragazzi delle corne del buon mangiare quindi sarà molto 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 divertenti il canale già esiste di poter iscrivere anzi avete già visto avrete già visto delle clip lo lascio qui sotto nel campo descrizione e quindi siamo arrivati ai giorni nostri 2024 ora 2024 interessante arriviamo da momenti che veramente sono stati tanto ottimisti c'è stato c'è tanto tanto ottimismo tanto ottimismo il mercato si è posizionato ha fatto questa scommessa le banche centrali gli hanno dato alla fine ragione perché Powell nell'ultimo funk dell'anno ha detto e l'abbiamo visto con il dot plot chart no? ci sarà un taglio dei tassi si prevede 75 punti base la diciamo la media votante e e quindi vuol dire dare ragione ai ai mercati però c'è sempre questo aspetto no? non è che hanno scontato troppo i mercati non è che sono stati troppo ottimisti io inizio il 2024 con questa domanda ma io penso che i mercati siano consapevoli del fatto che in questo momento sono troppo ottimisti penso anche che siamo a fine anno e quindi ci sia anche la volontà di chiudere le posizioni in attivo con dei guadagni anche per un discorso di minusvalenze e quindi in linea di massima questo è stato il classico rally di Natale ecco che più o meno insomma si ripete in questi periodi negli anni ecco però in mezzo a tutto questo la cosa che mi ha un attimino sorpreso è stato il fatto proprio di Powell perché Powell Marco se ti ricordi il primo dicembre se non sbaglio ad Atlanta fece quell'annuncio diceva che era un po' era prematuro insomma investire pensando al fatto che ci sia un taglio dei tassi no? e poi cosa succede? succede che l'8 dicembre che io e te ci sentivamo per il discorso euro-dollaro vengono vengono fuori dei dati stratosferici ecco per quel che riguarda l'economia americana se non sbaglio con un 3,7 di disoccupazione rispetto al 3,9 per cui un meno 0,2 cioè rispetto a quello precedente poi c'è stato se non sbaglio un ISM di 69 erotti quando le previsioni erano 61 62 e più anche le paghe orarie se non sbaglio sono state superiori anche quelle e quindi tutto lasciava presagire che ciò che aveva detto secondo me Powell il primo dicembre insomma come minimo sarebbe stato confermato ecco se non rinforzato e invece poi siamo arrivati al 13 che Powell si è tirato un po' giù le braghe cioè nonostante quello che ciò che aveva detto l'1 dicembre e nonostante i dati dell'8 dicembre che gli davano proprio ragione no e questa è una cosa un po' particolare perché di Powell si può dire tutto però è sempre stato molto credibile in ciò tra quello che diceva e quello che faceva questa volta è stata forse una delle poche volte nelle quali non ho ritrovato questo tipo di coerenza ecco è stato insolitamente accomodante lui è veramente bravo mentre la lagarde diciamo che si lascia un pochino più andare la nostra lagarde nazionale e Powell è un avvocato insomma un uomo tutto di un pezzo sempre attentissimo maia eppure è stato accomodante infatti guarda stavo facendo vedere che cosa era successo perché qui c'è una storia su euro dollaro che cosa è successo su euro dollaro c'è stato questo momento venivamo da questa forte discesa no quindi euro debole nei confronti del dollaro tra l'altro media 200 periodi che è un livello tecnico importante e che guarda che come ha agito proprio da pavimento da supporto da pavimento sì sì da supporto al prezzo e il prezzo poi qui eravamo considerate che eravamo questo era il primo dicembre se non sbaglio no è questo qui era il 30 novembre forse sì questo 30 novembre infatti candelone rosso discesa e poi questa ripartenza mostruosa e qua Gigi su queste 3-4 candele qua io e Gigi ci siamo non lo so ci saremmo scambiati 600 messaggi in quel frangente e Gigi ha detto no qui entriamo long ci sono i presupposti guarda quanto è riuscito a difendersi l'euro quindi qui evidentemente c'è una forza o più forze a noi sconosciute guardando i dati e succede questo anche in finanza che vogliono far tenere quel livello ed evidentemente hanno l'interesse di far rialzare l'euro cioè c'era una volontà superiore di no di tenere l'euro chiaramente più forte ecco che ci sta cioè è legittimo però questo lo capisci dai movimenti stando sul grafico e ecco come si diceva anche stamattina Marco quando sviluppi una certa familiarità ecco con l'asset no e per cui ti attendi una cosa che dai quasi per scontatto e dici no e cavo qua è successo qualcosa che non sarebbe dovuto succedere conoscendo un po' di più insomma questo asset e lì ce lo siamo detti ecco che la difesa di quella posizione secondo me è stata una sorpresa incredibile sì è stata veramente impressionante e tra l'altro continua l'euro a cavalcare perché non non si ferma nemmeno oggi ma sì ma anche anche oggi sono usciti dei dati tutti diciamo superiori all'attesa ecco negli Stati Uniti seppur abbiano la rilevanza del del caso però insomma è l'euro dopo una piccola regressione è ripartito di nuovo quindi quindi qua significa che probabilmente quindi guardiamo apriamo un po' il grafico ecco questo è il grafico un pochino più aperto scusate le linee c'è un indicatore che mi mette un po' di informazioni qui abbiamo questo punto importante a 1.12.50 certo e se se veramente dovesse adesso rompere cioè guarda questo rettangolo qui che io mi ero segnato all'interno del quale il prezzo è ed è sempre più vicino alla parte alta di questo rettangolo che qui ha avuto quest'azione di resistenza e quindi ha respinto il prezzo in basso era ritornato a giugno sulla media a 200 e ci stiamo ci stiamo tornando ci stiamo proprio dentro qui adesso si gioca tanto no? sì guarda Marco come dicevamo stamattina ecco graficamente secondo me questo è un cap and handle perfetto bellissimo sul daily che dura anche da qualche mese per cui è proprio molto molto bello l'idea che possa rompere quel tipo di resistenza insomma fa pensare che la proiezione chiaramente diventi la lunghezza insomma del fine tazza fino al al massimo no? proiettalo più avanti e ti e ti fa pensare che possa fare veramente un qualcosa di incredibile però devo anche dire che non mi sorprenderei se un pochino ritracciasse e tornasse a prendere un po' di liquidità sugli 1.08.50 fino ad arrivare agli 1.07.50 ecco poi da lì c'è anche la media 200 lì eh sì sì se dovesse poi ritracciare ripartire da lì poi dopo secondo me almeno 1.12.50 1.13 ci può ci può arrivare anche se devo dire la verità Marco se lo chiedi a me ti dico nel 2024 tutti parlano di di grandi tagli di tassi da parte della BCE secondo me è quella la guerra adesso tra euro e dollaro cioè chi taglia prima i tassi Marco ma se noi insomma che un qualcosina non si capisce ma si segue ecco per cui è già un qualcosa metti a verbale un qualcosa se tu oggi mi chiedi come sono la situazione tassi Fed e BCE ti dico bene che vada secondo me vedendo anche ciò che dice l'economia la BCE li taglia almeno quanto li taglia la Fed ma secondo me se ce n'è una delle due che ne taglia di meno secondo me la Fed per la situazione economica che ha e quindi non riesco capire come l'euro sia così sostenuto con tutta questa positività ecco è un po' un eccesso anche questo secondo me se uno guarda in prospettiva ecco posso traduco per chi magari è meno tecnico i tagli dei tassi di interesse si traducono in una valuta più debole ok quindi visto che siamo arrivati al 2024 in cui siamo in pausa e adesso ci saranno i tagli qui è una gara chi taglia prima chi taglia prima indebolirà prima la sua valuta e quello che diceva Gigi è l'economia europea sta messa molto peggio dell'economia americana la Fed ad oggi non avrebbe nessun motivo per tagliare l'inflazione comunque in Europa è più vicina al 2% dell'America al 3,1% l'Europa è un passo se non sbaglio la 4% se non sbaglio esatto che è rimasto e quindi questo porterebbe a pensare ed è quello che penso che la BCE sarà la prima a tagliare e la BCE perché deve ristimolare l'economia ma guarda Marco io non so magari un discorso di tempistica chi prima o chi dopo non ho idea però in un anno chi ne taglierà di più secondo me c'è più possibilità che tagli la BCE secondo me che non la Fed vedendo così l'economia deve recuperare di più è certo però sono pensieri così che ci trasferiamo sì gold abbiamo parlato di euro-dollaro gold oggi il gold fa un candelone l'hai visto io non l'avevo ancora visto perché c'è avuto la diretta e poi sono venuto qui da te ma oggi il gold sta tornando ai suoi massimi storici stiamo facendo l'1,20% e stiamo in questo momento a 2.082 dollari eh sì 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 non vorrei che insomma quella 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 candela la shooting la sia sia propedeutica a nuovi a nuovi record ecco perché non non mi sorprenderebbe ecco come te lo dissi già due mesi fa a me continua a sorprendere tu giustamente mi continui a dire che a te non sorprende ma a me sorprende questo gold con questa forza che col vento in faccia continua a salire che non gli interessa se sale pure il eh il il dovesse salire il dollaro c'ha i tassi reali che lo spingono non c'ha nessun motivo di fungere da bene rifugio eppure c'ha c'ha una forza che va contro tutti secondo me la verità è che un pochino alla fine è il paradosso dei mercati secondo me al di là di quello che stiamo cavalcando questa euforia secondo me però c'è un retropensiero che di paura e quindi questo secondo me alla fine fa sì che qualcuno dice sì stiamo cavalcando stiamo andando benissimo però io intanto un po' di oro me lo prendo ecco le banche centrali stanno comprando tanto sì ma già anche l'anno scorso ne hanno comprato sì in maniera massiccia ecco e sai questo potrebbe essere anche un segnale ecco che che uno può interpretare sì e il petrolio è l'altro asset interessante no petrolio che è sceso è sceso è sceso adesso ha fatto un rimbalzino ma sembra pure il petrolio non stare ad ascoltare quello che ci dice l'economia perché da una parte l'economia ci dice che c'è un deficit rispetto domande offerta l'OPEC ci ha detto che taglierà circa un milione di barili prossimamente in più a quelli che già va tagliato eppure il petrolio non si fida sembra essere un altro asset che ancora non si fida troppo sì però devo anche dire che a differenza di delle sue caratteristiche storiche il petrolio nell'ultimo anno anno e mezzo ha trovato un trading range abbastanza certo che è quello tra i 68 e gli 84 più o meno se non sbaglio poi ha sforato nel periodo se non sbaglio della guerra in Israele quando è partita se non sbaglio la guerra in Israele però mi sembra che sia entrato in quel trading range nel quale secondo me puoi trovare delle buone opportunità sia in long che in short chiaramente anche perché in questo momento prendere una posizione secondo me è un rischio è un rischio perché si contrappongono tante motivazioni alcune a favore del petrolio altre invece che vanno contro e quindi a quel punto secondo me l'entrata o long e short dipende solo esclusivamente dai livelli di prezzo da livelli tecnici quindi quello che ci sta dicendo Gigi è qui si guarda il grafico e si naviga a vista guardando il grafico perché dal punto di vista dei fondamentali l'asset non sta seguendo quello che i numeri dicono sia dal punto di vista economico che dal punto di vista fondamentale di materia prima certo no che poi è bello perché noi siamo molto contraddittori nel senso che spesso volentieri quando ragioniamo a bocce ferme diciamo no ma sai i mercati sono sempre avanti sei mesi rispetto all'economia e quindi quando si presume un taglio dei tassi i mercati sicuramente esplodono ne godono ne ricevono benefici poi quando accade veramente tipo adesso tutti dicono no ma cosa sta accadendo ma come mai non c'è proprio nessun senso ma cazzo lo diciamo sempre che è una cosa assurda siamo di un contraddittorio incredibile perché alla fine noi vogliamo che il mercato faccia quello che noi pensiamo e che noi vogliamo questa è la grande guerra interna che combattiamo tutti i giorni cercare di non cadere in quella in quella trappola mortale però sul petrolio c'è la Cina che potrebbe effettivamente la Cina è stata la grande delusione del 2023 giusto no guarda la Cina Margo secondo me ora io parlo di finanza ecco non parlo di di dati economici insomma la Cina ha fatto del record su record negli anni scorsi però guardavo l'indice Anseng alla fine negli ultimi sei anni ne ha fatti cinque in negativo cioè non è che ne ha fatti pochi e e quindi questo mi lascia presupporre che probabilmente la tanto bistrattata Cina proprio nel momento in cui secondo me pensi che ci sia più rischio secondo me è il momento nel quale il rischio è minore e quindi io un occhio per il 2024 ce lo ce lo do volentieri un occhio positivo e come ti ho detto oggi qualche giorno fa ho fatto anche una mia operazione Cina che ci teniamo lì quindi tu dici che ci sta come ragionamento la logica la condivido cioè è così uso una parola forte ma che in finanza ha senso è così tossica adesso la Cina nessuno ci vuole andare nessuno la vuole toccare c'è questa guerra pure commerciale con gli Stati Uniti tutta la parte di commercio l'America non vuole dargli la tecnologia per l'intelligenza artificiale perché non vuole che la sovranità tecnologica venga in Cina bla 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 che ormai è così debole che si può continuare a scendere un pochino ma ormai ha dato effettivamente la stavo guardando prima il grafico è arrivato ad un livello importante di discesa e quindi a un certo punto il rimbalzo tecnico fisiologico ci sta sì io devo dire la verità se se avessi un cipino io ci penserei e pensa e poi ho avuto ancora di più la convinzione perché ogni tanto qualche mio amico come succederà a te mi chiede magari dei consigli su in quel periodo cosa investiamo secondo te allora si discute l'altro giorno mi chiamo il mio amico e mi fa ma lo sai Gigi che il ragazzo della banca insomma che il promotore insomma finanziario così mi ha detto ma dai cominciamo a mettere su un bellissimo basket di titoli americani e io ricordandomi di quello che mi ha detto e mi fa ma non è meglio la Cina mi fa no assolutamente lascia stare la Cina e allora quella cosa lì mi ha detto la convinzione ho detto devo entrare su la Cina all'altro lasciami dire un promotore finanziario che adesso in questo momento gli offre quelli americani dai lascia stare effettivamente è interessante questo contropensiero no come la famosa la celebre frase di Warren Buffett che non mi ricordo quale fosse l'azienda ma entra nel taxi e il tassista gli dice ma allora è il momento di investire in questa azienda che lui aveva nel portafoglio sceso dal taxi ha disinvestito tutto perché quando arriva qui è esattamente il contrario la tossicità di cui parlavo prima adesso credo che ci sia proprio una volontà sistematica di non entrare nel mercato cinese di stare a guardare hanno scaricato le posizioni quindi tutto sommato il tuo ragionamento non fa una piega senti chiudiamo con l'azionario l'azionario Italia perché anche l'Europa è andata bene il DAX massimi storici il CAC massimi storici il Fusimib è tornato a Borsa Italiana è tornata ai livelli che li ha rotti del 2008 finalmente il più sorprendente per me è stato il DAX al di là del Fusimib si sape che il Fusimib bene o male è condizionato molto dal discorso dei titoli bancari e quindi i titoli bancari con i credit su tutti insomma ha dato un impulso importante ecco a quest'indice e lo trovo anche normale ecco correlato via questo rialzo il DAX sinceramente mi ha sorpreso ecco mi ha sorpreso e e sono curioso di vedere cosa accadrà in futuro perché insomma ha raggiunto dei livelli che che probabilmente insomma sono un po' eccessivi ecco anche perché Germania è così debole cioè per assurdo è una delle nazioni più deboli d'Europa è già stata in recessione tecnica qualche mese fa ma adesso ci rientra perché adesso ci avrà un'altra volta due letture negative la produzione industriale è terribile c'ha dei numeri che fanno paura sembra peggio della Grecia ai tempi ai brutti tempi eppure il DAX massimo vedete come la economia e finanza l'economia non è la finanza e la finanza non è l'economia e il DAX ce lo sta facendo vedere sì 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 è vero però no 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 è vero è la verità però obiettivamente la Germania penso che abbia patito e stia patendo molto il discorso della guerra della Russia ucraina no perché alla fine insomma c'era una sinergia molto molto importante ecco fra le due nazioni e tutto questo ha pesato non poco ecco su di loro però vedi anche lì la diversificazione che noi in finanza conosciamo bene di un paese che si era attaccato alla Russia quando c'è stato un problema quando tutte le tue uova stanno in un paniere in un paniere certo se il paniere si rompe ci sono grandi problemi però diciamo il Dax si sta difendendo alla grande insomma Gigi 2024 qui è bello col coltello tra i denti eh ma 2024 guarda 2024 secondo me sarà un anno a luci e ombre che secondo me partirà con un po' di luci nel senso che a gennaio molti riprenderanno le loro posizioni poi magari da da metà febbraio fine febbraio marzo aprile anche storicamente sono due mesi nei quali qualcosa di solito si lascia sul campo però però non prenderei delle delle decisioni drastiche da subito e sarei molto duttile ed elastico ecco perché non mi sorprenderei se magari nel 2024 i mercati un pochino potessero insomma deludessero ecco perché perché ci potrebbe anche stare sì un po' per ritracciamento fisiologico e un po' perché c'è qualcosa che non stanno scontando oggi ma che c'è sempre un grande ritardo poi tra per esempio le politiche monetarie e quello che succede nell'economia reale questo ritardo a un certo punto si stringe si stringe si stringe e poi qualcosa succede qualcosa si rompe magari e bisognerà ridurre tutti gli entusiasmi che ci sono stati bene noi li seguiremo tutti questi entusiasmi tutte queste riduzioni tutte queste luci e ombre mi è piaciuta molto la metafora rende tanto quello che sarà il 2024 GG c'è stato un anno avevi chiesto azionario avevi chiesto azionario avevi chiesto avevo chiesto azionario no perché lo sai no no l'azionario io alla fine Marco come tu ben sai nazionario italiano ogni tanto investo più che altro rispetto verso la nazione e la bandiera un discorso patriottico però mi piace molto molto di più diciamo mettere lo sguardo su quello su quello americano no anche perché poi ci sono secondo me nel tempo si creano delle delle opportunità che se si riveleranno riveleranno buono no lo dirà solo il tempo però come come ti ho detto era da da parecchio tempo che stavo mettendo attenzione su una certa su una certa azione che 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 non so se la vuoi dire si può dire non ne ho idea tanto tanto è una cosa che abbiamo fatto nel passato quindi si 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 vai dammi il ticker il ticker è baba eccoci che grafico pauroso si si è pauroso ne ho fatto in cetta sui 71 devo dire la verità perché secondo me è un bel è un bel prezzo un bel prezzo però prima devo dirlo di di entrare insomma ho dato anche uno sguardo sai per curiosità ecco anche ai bilanci ai numeri e tutto quanto no perché poi questi questi colossi o queste o queste grandi aziende nel momento sono abbastanza sicure però insomma nel momento in cui sono in una difficoltà palese come come è baba e nessuno ha delle risposte precise è chiaro che ti sorprende e allora vuoi andare a cercare qualche qualche numero no il primo fra tutti che che mi è piaciuto è il price earning no alla fine di baba che è un price earning a 10 se tu pensi magari che amazon ha 78 mi sembra che insomma ci sia spazio un attimino per per poter crescere ecco diciamo così penso che sia veramente fustigata troppo ecco chiaramente questi sono investimenti non so a medio termine a lungo termine come come uno secondo me vuole ecco poi non so sono andato a vedere il debito il rapporto il debito totale rispetto al capitale che alla fine è un 11% 11 e rotti per cento è una cosa molto buona insomma per una società in quanto a diciamo solidità ecco il valore contabile ecco dell'azione è 55 mentre invece per dire amazon se non sbaglio è 17 18 cioè e baba vale 74 75 oggi non lo so e amazon vale 100 e poi insomma alla fine ha degli utili insomma che bene o male sono sempre elevatissimi gli ultimi se non sbaglio ha fatto 220 e passa a billion al di là un pochino sotto le aspettative ma si parla insomma veramente di di inezia ecco e e poi e poi insomma cosa c'è da dire più di questo non so cosa dire uno può vedere anche secondo me i massimi storici che ha toccato per per capire che sicuramente c'è del valore dentro questo non è che butti via i soldi o butti via l'investimento prenderlo a questi prezzi sì magari potrebbe rifare dei minimi a 59 60 quelli che sono stati che ha fatto qualche anno fa sì c'è un bel tra l'altro anche prima anche recentemente tipo un annetto e mezzo fa fece dei minimi sui 59 se non sbaglio ecco lì a novembre 2022 sì sì andò a toccare questo minimo che aveva toccato nel 2015 addirittura nel 2016 poi poi non c'era mai più tornato nemmeno durante il il covid e c'è tornato cioè non c'è tornato ma c'è andato vicino eh certo 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 e quindi secondo me al di là di tutto al di là del punto interrogativo Cina al di là dei governi cinesi che entra sempre e impongono eh magari delle logiche delle leggi che non sono a favore magari di queste società al di là di Jack Ma che 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 penso che dopo essere sparito l'abbia rivisto e quindi è già è vivo almeno è vivo almeno sappiamo che è vivo è mezzo a noi ecco ok dico secondo me è un'azienda che è stata oltremodo penalizzata perché veramente ci sono delle delle scartoffie che vedi girare che che hanno dei del price earning a 150 non analogica ecco sono indebitate l'inverosimile questa sia questa bene o male come oggi avevo letto una bellissima frase che disse se non sbaglio Nino Nino Manfredi in un film e disse se tu sei sei il colosso De Rodi io non sono certo il nanetto di Biancaneve cioè paragonando Baba Amazon nel senso per amore di Dio Amazon è Amazon ma insomma anche Alibaba secondo me è un'azienda che insomma ha del valore intrinseco importante via guarda io non c'ho niente da dirti su su Baba se non che due cose uno che hai fatto una cioè questa è una buona entrata e ovviamente questi non sono consigli finanziari ognuno deve fare i propri compiti a casa valutare come inserirla quando se perché per come perché c'è un livello di rischio sicuramente insito come in tutta la finanza l'entrata è buona molto migliore della mia entrata come prezzo medio perché io Baba ce l'ho ho cominciato a accumulare qui a prendere qui le entrate ed era il 2017 poi ho aumentato quando il prezzo andava il prezzo aveva toccato i 320 dollari cioè è impressionante poi qui c'è stato il crollo quindi nel mio portafoglio Baba è in perdita ma Baba non la tolgo cioè perché perché un investito quando pensi a lungo termine devi lo disse anche Munger pochi giorni fa ahimè è scomparso ma una frase sua è un investitore deve sapere che nel nel suo ciclo di vita avrà dei titoli che sono dei buoni titoli e che hanno i fondamentali che magari ti fanno un meno 50 meno 70% ma se non sono cambiati i presupposti per cui l'hai inserita nel portafoglio i bilanci tengono e tiene tutto perché la devi togliere perché ti ha fatto il meno 50% per me quella non è una regola perché quelle sono regole invece di di breve termine no e quindi la tengo in perdita non la guardo per dire anche un indice che è un indice particolare che è l'indice più piotroschi no che è un indice che valutato fa da 0 a 9 a 9 cioè quindi stiamo parlando di cose concrete cioè non è che stiamo parlando di astrazioni no e quindi preferisco in un momento simile a determinati prezzi perché secondo me è un buon prezzo investire su un qualcosa che mi dà delle delle garanzie se vogliamo che garanzie che me le dicono i bilanci me le dicono i numeri stop che è solida che ha numeri solidi e poi certo sì per quel è il pericolo qui il rischio che io vedo quando mi interrogo su Babba non è di bilancio ma è il governo cinese la smembrerà e se la smembrerà perché si parla di questo no se comincia a spacchettare in n aziende che cosa succederà cosa rimane dentro a quello che c'è sul titolo che cosa se ne va Jack Ma che è stato l'anima un po' il Jeff Bezos di Amazon Jack Ma è l'amministratore il founder la testa dietro a Babba se dovesse essere messo da parte e se dovesse andare dall'azienda questo è il futuro no il futuro non lo conosce nessuno oggi non c'è ma questo è il rischio che vedo è il rischio più grande certo che è il rischio più grande ed è il rischio che ad oggi l'unico ci si assume anche certo 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 sicuramente che ci si assume vediamo vediamo la monitoreremo Marchetto che ti vedo qua tazzina è praticamente vuota Gigi grazie mille per questa chiacchierata infinita e noi ricordiamo 15 gennaio Sportfoglio con Davide Giacomo Gigi e me Calcio Finanza e iscrivetevi già al canale che già siamo operativi e quindi buon inizio 2024 che sia un 2024 prospero per tutti eh per tutti ma proprio tutti grazie mille per Jack Ma esatto soprattutto per Jack Ma soprattutto per lui perché ha visto momenti bui eh io credo io credo che se la sia fatta sotto io però io a un certo secondo me è andato in l'hanno messo sicuro in prigione a un certo punto l'hanno messo da una parte e nascosta e pensa che non ce lo potrà neanche dire poverino non lo sapremo non lo saprà nessuno dai dai ciao Varco tanti auguri a tutti e di anno prospero chiaramente grazie ciao Gigi ciao e buoni investimenti a tutti ciao ciao